Nel ribadire un concetto fondamentale, ossia quanto l'artwork di copertina sia parte molto influente ed essenziale dell'opera discografica di un artista, rimando alla memoria alla fine degli anni 70, quando sfogliando questa enciclopedia del rock mi imbattei in questa immagine, cioè la copertina del doppio live dei Blue Oyster Cult, On Your Feet or On Your Knees. Da quella suggestione scattò immediatamente in me l'affascinazione per questo marchio. Ben trovati da Mox Cristadoro al lato oscuro, per la terza volta in questa serie ci occupiamo di un artista, meglio dire di un gruppo proveniente dalla città di New York City, è stata la volta in precedenza dei Riot o dei Typo Negative, e oggi è la volta dei Blue Oyster Cult, quindi un gruppo veramente amatissimo in tutto il mondo, da una foltissima nicchia di persone, rimasta folgorata dall'attitudine eccezionale di questa band, che adesso brevemente, per quanto possibile, vedremo attraverso la visione di quella che è la loro discografia. Un gruppo che ha le sue origini già alla fine degli anni 60, per la volontà di un eccezionale, eccellente chitarrista e ottimo cantante che si chiama Donald Röser, o meglio conosciuto anche come Buck Dharma. La prima incarnazione ha proprio luogo a fine anni 60 di questa band. In maniera successiva, poi in maniera postuma, verranno ristampate le prime registrazioni del Blue Oyster Cult, quando ancora si chiamavano Stalk Forest Group, poi hanno avuto anche il nome di Soft White Underbelly, su idea di quello che è il sesto elemento della band, cioè il produttore, scrittore e arrangiatore, insomma veramente membro effettivo della band, che è Sandy Perlman, che starà con loro per tutto il grosso della loro carriera, specialmente nella parte dorata. Carriera che dopo Stalk Forest Group, che ha ancora, diciamo, dei forti influssi 60s, perché ci sono poi chi avrà la fortuna di ascoltare le registrazioni pubblicate in questo cd postumo negli anni, nel 2013, nella Fattispecie, si accorgerà che pur essendoci già delle parti di scrittura che poi i Calta hanno usato nella loro prima parte della carriera, però insomma il suono è ancora molto abbondantemente come è giusto che sia psichedelico relativo agli anni 60. L'album di debutto esce con questa magnifica copertina, album omonimo, nel 1972, registrato nel 71. Mostro simultaneamente anche le versioni cd, perché in questo caso è una bellissima versione rimasterizzata con ben quattro bonus track, quindi estratti dai demo, quindi molto suggestivo il vinile anche per la copertina, ma quanto interessante poi naturalmente la versione cd. Di lì a poco esce il secondo album, Tyranny and Mutation, siamo nel 73, altra copertina meravigliosa, e questa fa parte di una trilogia di dischi che vedremo li renderà estremamente importanti per una determinata attitudine, che ha luogo sì in un ambito comunemente chiamato heavy metal, ma i Bluestercull secondo me riescono a prenderne distanze. Io trovo profondamente progressiva questa band, nel senso che innanzitutto ha un senso della melodia, della scrittura melodica, come pochi altri, insomma, fa della canzone sicuramente un cavallo di battaglia, una punta di diamante, e vedremo infatti che moltissimi pezzi poi hanno un'evoluzione melodica che rimarrà nella storia, come la loro più celebre. Il terzo album è nel 74, con questa copertina, Secret Treaties, con i Mesher Smiths, che sono degli aerei da guerra, e questo possiamo già iniziare a configurare come il loro capolavoro. Però poi, rientra anche in un libro della Tsunami di Gianni della Cioppa, che lo inquadra come uno dei 100 migliori album della storia dell'hard rock, ed è sicuramente così. Cosa vera, secondo me, anche per altri album di Bluestercull, però questo sicuramente è un manifesto, perché sono otto brani perfetti, tra cui Astronomy, Carriero Vivo, Subhuman, Dominance and Submission, Mesher Smith, 262. È veramente un compendio di musica meravigliosa. E questo è veramente l'album apice della loro carriera, che poi confluisce in questo famoso live dalla copertina veramente folgorante, cioè On Your Feet or On Your Knees, come ho spiegato nell'introduzione, il disco che mi ha fatto incuriosire e mi ha fatto poi successivamente, dopo gli ascolti, amare tantissimo questa band. Siamo nel 75 con questo live. Approfitto per fare un incrocio temporale. In quell'anno il primo a parlare bene in Italia di questo gruppo lo fa con una recensione dell'album Tyranny and Mutation, è il maestro Beppe Riva, con una semplice lettera dal lettore alla rivista, in cui appunto fa una recensione di Tyranny and Mutation e che gli vale un paio di cose. Nell'immediato la vittoria di un LP come premio al lettore che ha scritto una recensione così bella. E successivamente l'attenzione di Rockerilla, che lo farà svoltare proprio come giornalista di settore tra i guru di questo settore in Italia, quindi il giornalista che per primo si è occupato di molta parte dell'hard rock, dell'heavy metal e di psichedelia progressiva, per certi aspetti, dalla fine degli anni 70 in poi. Quindi diciamo che il primo merito sui bluster cult italiano ce l'ha effettivamente Beppe Riva. Nel frattempo non vi ho mostrato gli omologhi in CD dei primi album che anche questi contengono quattro bonus tracks estratte dai demo, quindi questa è Tyranny and Mutation e questo è Secret Treatise con ben cinque inediti, quindi consigliatissimi. Un incrocio fondamentale per questa band che nel primo nucleo, quello storico, che andrà avanti parecchio, è formata da, oltre al fondatore chitarrista Buck Dharma, quindi Donald Raser, da un carismatico cantante e chitarrista a sua volta che si chiama Eric Bloom, da una coppia di fratelli che si chiamano Albert e Joe Bouchard e da Alan Lagnier, che è un chitarrista tastierista della band, che ha una storia, una storia nel senso proprio d'amore, con la poetessa della stessa città da cui provengono loro, ossia Patti Smith. E vi mostro gli album di Patti Smith, non a caso, perché l'incrocio determina uno scambio anche a livello culturale e artistico, cioè Patti Smith collabora con i Blue Oster Cult e Alan Lagnier collabora con il Patti Smith Group, sia a livello di stesure e di arrangiamenti, ma anche a livello di, non so, cori o voci per quanto riguarda Patti Smith, e a livello di strumentazione per quanto riguarda Alan Lagnier nei dischi della Smith. Album successivo a live è questo, stavo sbagliando, scusate, Agents of Fortune. Agents of Fortune è l'album che contiene il brano più famoso del Blue Oster Cult, che si intitola Don't Fear the Ripper, un brano di una melodia particolarmente riuscita e che rimarrà nelle radio e nell'immaginario collettivo dal 76 all'eternità. Anche qui abbiamo la versione CD con quattro bonus tracks e quindi un altro album di quelli essenziali. Il successivo invece, come vi stavo mostrando, è Spectres. Spectres, ossia Spetri, è un altro disco che contiene dei pezzi che poi rimarranno anche dei cavalli di battaglia dal vivo, come Godzilla. In più c'è un brano in particolare che è la mia preferita di questo album, si intitola Nosferatu, che chiude l'album. E mi piace perché il riff portante è lo stesso del mio pezzo preferito di un gruppo che è quasi omonimo, cioè i Cult. In questo album il lato 2 è aperto da un pezzo che si chiama The Phoenix e il riff è molto semplice, come in altri milioni di pezzi, però è lo stesso di Nosferatu dei Bluestercult. Insomma, è proprio un giro di note che particolarmente mi colpisce e mi piace. Altro incrocio artistico fondamentale risiede per quanto riguarda l'immaginario nel quale i Bluestercult si muovono che è molto fantascientifico e molto futuristico è la collaborazione a un certo punto per alcuni brani chiave e non casualmente tre in particolare che sono tra i miei preferiti dei Bluestercult con uno scrittore di fantascienza che si chiama Michael Moorcock. Ora vi mostro la copertina apribile in più parti di un disco bellissimo di una band inglese che si chiama Hawkwind, che di fantascienza ne sa veramente tanto. Questo è Warrior on the Edge of Time, periodo degli Hawkwind negli anni 70 in cui milita ancora Lemmy. E insomma, loro condividono alcune parti di scrittura dei testi di Michael Moorcock insieme a Bluestercult. Quindi è un autore che si è reso disponibile oltre che fondamentale, secondo me, per queste due eccezionali band. Un'altra cosa importante da dire è che Sandy Perlman si occuperà di produrre anche altri gruppi e mostra un disco che apparentemente è abbastanza distante come suono da quello di Bluestercult perché è il secondo album del 1978 dei The Clash, quindi siamo in ambito un po' più punk rock almeno per l'epoca e la produzione di questo disco infatti snatura un po' quella che è l'anima primordiale dei Clash, proprio perché c'è dietro Sandy Perlman che conferisce alla band un certo livello produttivo e più potente volendo anche da certi punti di vista. Quindi questo Give Me Enough Rope è prodotto da lui. E l'altra cosa interessante è che c'è una particina in cui la tastiera è suonata proprio da Alain Lannier dei Blue Oyster Cult. Un altro dei gruppi invece che Sandy Perlman produce si chiama Pavlos Dog ed è un gruppo invece in ambito apprezzatissimo, molto in ambito progressivo. I Blue Oyster Cult sono essenzialmente una live band, cioè un gruppo che dal vivo, come tutte le grandi hard rock band, ma soprattutto con dei chitarristi molto dotati, fa faville. E quindi gli album dal vivo dei Blue Oyster Cult sono copiosi, numerosi. Il primo l'abbiamo visto, il doppio del 75, On Your Feet or On Your Knees, poi abbiamo nel 78 l'uscita di questo singolo, cioè Some Inchanted Evening, altra copertina bellissima. Interessante a questo punto dire che essendo una band cresciuta musicalmente negli anni 60, nel senso proprio i membri della band amavano la musica degli anni 60 perché erano adolescenti in quel periodo, nel momento in cui si producono in cover sono esclusivamente di gruppi degli anni 60. E vi faccio quattro esempi tipici, che sono i Doors, gli Steppenwolves di Born to be Wild, gli Yardbirds e gli Animals. Quindi questo è il repertorio, diciamo, a parte il loro, che loro amano riproporre dal vivo. 1979, disco di svolta, nel senso che è un disco che non ha successo, ma è in quell'anno, proprio a ridosso degli anni 80, si intitola Mirrors. Il quintetto produce un disco apparentemente più leggero, ma che contiene due brani, che a mio avviso, anzi tre, però due soprattutto che sono tra i più belli che abbiano mai scritti. Una si intitola The Vigil, l'altra si intitola The Great Sangester e io l'ascoltai in radio proprio nel 79 e mi innamorai perdutamente dei Bluster Cult grazie anche a questo pezzo, il cui testo è proprio di Michael Moorcock. Quindi questo è il primo brano della serie dei testi di Michael Moorcock che vado a menzionarvi. E poi contiene un brano di Alain Lagné che si intitola Indy, che poi verrà ripreso. Comunque Mirrors, album erroneamente bistrattato perché in realtà contiene dei capolavori. Nel 1980, l'anno successivo, esce quello che insieme a Secret Ritis è in assoluto il mio album preferito, The Bluster Cult, cioè Cultusaurus Erectus. Un disco di fantascienza con una decina di brani, forse 10 o 11, uno più bello dell'altro e la mitica Black Blade è l'altro brano con il testo di Michael Moorcock e che io, questa è una digressione del tutto personale che mi piace fare all'interno degli episodi del lato oscuro, usai il brano Black Blade per diversi anni come sigla di un programma radiofonico da me condotto, Easy Rider. Quindi questo per dirvi quanto questa formazione sia per me un assoluto punto di riferimento. 1981 esce un altro disco grandioso e anche qui la copertina non è da meno delle loro migliori, anzi una delle più belle in assoluto. Qui abbiamo il Fire of Unknown Origin, Fuochi di origine sconosciuta. Questo disco contiene uno dei brani secondo me più importanti ed è il terzo con il testo di Michael Moorcock, si intitola Veteran of the Psychic Wars. È proprio un brano che io vorrei in una celebrazione religiosa che mi coinvolge, che può essere un matrimonio ma può essere anche un funerale. Insomma, è un brano che stabilisce quanto i Bluestercult siano veramente una delle più grandi band della storia, della musica rock. Questo brano verrà ripreso all'interno di una colonna sonora, di un film di animazione e di fantascienza che non a caso, proprio nell'81, si intitola Heavy Metal. Ci sono varie formazioni, tra cui i D.Vo, i Cheap Trick, i Black Sabbath con Mob Rules, Sammy Hagar, i Journey, Nazareth, Steven X, quindi è una bellissima compilation, ma il brano ovviamente di Bluestercult è Veteran of Psychic Wars e devo dire che è proprio una beta irraggiungibile. Nel 1982 e terzo live della loro carriera, doppio extraterrestrial live. Questa è la copertina. Nel frattempo, per non perdersi i CD, questo è quello relativo a Kultusaurus e Rectus. Questo è Fire of a Non Origin, in versioni però non con bonus track. E questo è il mitico live extraterrestrial, che naturalmente in versione CD è singola e non è doppia, quindi è l'LP che è doppio, è apribile. Loro dal vivo sono sempre una grande macchina da guerra, nonostante il loro percorso, ogni tanto abbia delle battute non di arresto sicuramente, ma di inflessione melodica superiore a quella dei loro esordi. Allora, importante vedere come proseguono con una svolta ancora più edultoriente rock con l'album successivo, quindi nell'83 esce questo Revolution by Night, che convolge anche un alfiere della musica rock tendente all'adulto, che si chiama Aldo Nova, quindi un canadese, e qui infatti il suono si rende veramente più FM. Avrà il massimo sviluppo in questa direzione con l'album dell'86, no, 85, che si intitola Club Ninja. Questo è un momento per il Bluoster Cult, in cui alcuni fan in parte se ne distaccano. Nell'82, però, prima di Revolution by Night, Buck Dharma produce il suo album solista. Questo è l'unico che ho in mio possesso e francamente non so se ce ne sono altri. Si intitola Flat Out è uno di quei dischi in cui sembra di sentire sicuramente i Bluoster Cult, ma anche no, cioè c'è una certa differenza e probabilmente la sua volontà di scrivere partiture per certi aspetti differenti da quelle che sfruttava nella band principale, insomma, in questo Flat Out ha la possibilità e ne dà sfogo. Quindi sicuramente per i completisti un disco importante. Versione CD di Revolution by Night. Imaginos è il disco loro del 1988 che è un disco che li riporta all'immaginario concept e fantascientifico dei primordi. Interessante poi capire che negli anni 90 si dedicano prevalentemente Buck Dharma ha lo score, quindi la colonna sonora di questo film che si intitola Bad Channels, quindi questo è un altro documento importante per chi segue i Bluoster Cult, anche perché contiene dei brani, un paio di brani bellissimi, Demon's Kiss, Horseman's Arrive, quindi un altro tassello molto importante. Nel 1998 esce un album che secondo me li fa tornare a una certa sonorità per quanto sia cambiata in parte la formazione si intitola Heaven Forbid. Mostro due copertine dello stesso disco, questa è la versione americana, è una copertina abbastanza orrorifica, tanto che per il mercato europeo esce con questa copertina. In realtà questa è una sovracopertina perché rimuovendola sotto c'è la copertina orrorifica d'origine, quindi Heaven Forbid, altro disco secondo me poco valutato perché ormai siamo a ridosso degli anni 2000 e i fan di Blaster Kalt probabilmente sono tutti vecchi rispetto ai nuovi fan delle ondate di New Metal che imperversano tra i giovani. Però in realtà loro rimangono una grandissima band che scrive ottime canzoni. Il successivo è Course of Hidden Mirror nel 2001, altro disco pregevole e soprattutto è interessante vedere che il titolo è ripreso da parecchi anni prima, da una trentina d'anni prima perché Course of the Hidden Mirrors è il titolo di un brano del periodo pre-Bluester Kalt con gli Stalk Forest Group. Quarto album dal vivo che esce dopo Course che si intitola A Long Day's Night quindi qua siamo nel 2002. Poi abbiamo questa parte relativa ai Best Of dove Carrier of Evil Metal Years si riprende in particolare tutto il repertorio dei primi tre album comunque con anche qualche brano in più relativo comunque agli anni 70. Poi abbiamo un bellissimo live tra i tanti estrapolati in maniera postuma relativo al periodo 81-83 con concerti a New York e Pasadena che si intitola Tales of the Psychic Wars quindi un doppio CD un'altra bellissimo compendio antologico con tanto di libretto esplicativo si intitola Workshop of the Telescopes che è il titolo di un brano dal loro primissimo album poi siamo ormai negli ultimi anni e vengono riesumati dei concerti che vedono poi la luce in formato DVD e doppio CD questo è Hard Rock Live Cleveland 2014 perché i Blaster Kalt in quel periodo sono ancora in giro è importante vedere che i Blaster Kalt hanno prodotto da poco nel 2020 un album dal titolo emblematico cioè The Symbol Remains The Symbol Remains è il loro ultimo album quindi resistono i due anziani Eric Bloom e Donald Reuser la stessa etichetta che ormai è l'italiana Frontiers che pubblica il loro materiale pubblica ancora degli ottimi live album come questo Live at Rock of Ages Festival del 2016 questo che abbiamo in versione doppio vinile per chiudere questa solita e usuale carrellata nella discografia di un artista in questo caso di questi meravigliosi Blaster Kalt di New York tenderei ad esortare la Tsunami cioè l'editore di questo canale al quale invito tutti voi ad iscrivervi a contattare il loro autore Martin Popoff che ha scritto questa è la versione inglese di una bella Secrets Revealed quindi segreti rivelati di una bella cronologia sui Blaster Kalt quindi tradurre questo libro per il mercato italiano da parte di Tsunami è da parte mia un sogno ma anche da parte di molti fans perché li abbiamo visti dal vivo sono venuti in Italia diverse volte purtroppo li ho visti una volta sola al live di Trezzo sull'Adda quindi nel milanese in anni recenti perché erano gli anni 10 quindi degli anni 2000 comunque una formazione di tutto rispetto con addirittura il bassista Rudy Sarzo questa è la mia incursione caotica nei Blaster Kalt spero che la possiate apprezzare e vi invito a iscrivervi e a commentare da parte mia un abbraccio circolare